Caput, caput ragazzi, che confusione nel mio cervello, non so se devo essere contento, contentissimo per la prestazione, per la maniera, in maniera ovviamente intelligente come abbiamo portato a casa questa vittoria, oppure ragazzi dall'altra parte vi dico la verità, sono ancora scioccato, mi sento ancora male, ho ancora nella mia testa l'immagine di Barreligno che si è fatto male, forse malissimo, speriamo di no ragazzi, perciò non lo so, ho un po' di confusione nel mio cervello, Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti ragazzi, cominciamo con la cosa positiva, entrare in un campo di merda come questo qui, pioggia, 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 forse era meglio non giocare ragazzi stasera, abbiamo visto quello che è successo con Belotti, con Barrella, si ok, gli infortuni succedono anche sotto altre condizioni, però ragazzi non lo so, ovviamente è un rischio, giocare con queste condizioni, comunque quello che volevo dire, se tu entri in un campo veramente con queste condizioni, così difficili come oggi, se tu entri in guerra deve essere intelligente ragazzi, vi ricordate la scena famosa del film gladiatore, all'inizio dove ci sono i romani e poi dall'altra parte ci sono i barbari, i grucchi no, e i grucchi prendono la testa, la tagliano, la lanciano, tutti cominciano a andare verso i romani, e i romani tutti compatti, tutti compatti li distruggono ragazzi, perciò una partita così, sì, devi avere la grinta giusta, e questo ovviamente Conte la dà alle sue squadre, questo è chiaro, però devi anche avere un piano, devi anche giocare in maniera intelligente, noi oggi l'abbiamo fatto ragazzi, fase difensiva sembrava, non so, il muro cinese ragazzi, non passava niente, veramente assurdo, veramente, il Torino ha giocato bene secondo me, fino davanti alla porta, un muro assurdo, non passava niente, e poi in fase offensiva finalmente, cinici, fredezza, altro che pazza Inter, veramente cattivi sotto la porta, con tanta qualità ragazzi, e adesso Lukaku, sono, quanti sono, ho letto ragazzi, qui ho letto, sono otto stagioni, vi rendete conto ragazzi, otto stagioni che Lukaku va in doppia civra, una statistica che fa paura, fa paura ragazzi, anche il gol che lui ha fatto, dove lui aspetta, 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 io da tifoso dicevo, ma tira, tira, no, quanto cazzo aspetti, e invece ha fatto bene ragazzi, perché aveva il timing perfetto, Lukaku ha aspettato, finché il difensore del Torino, apriva le gambe come la figa colombiana, e poi l'ha messa dentro, grande Romelu, veramente tanta qualità ragazzi, in fase offensiva, anche il gol di Lautaro Martinez, anche quel gol non è stato una coincidenza, perché Lautaro Martinez, lui va dietro a tutte le palle ragazzi, va dietro a tutte le palle, lui ci crede ogni volta, e poi ci sono questi errori individuali, come della difesa del Torino, comunque impressionante ragazzi, che Lautaro Martinez, ovviamente aveva il vantaggio, perché il timing, ragazzi nel calcio, spesso quando c'hai questo secondo in più, quando mentalmente sei un secondo avanti, già di può bastare, però da spettatore è impressionante, già il campo fa schifo, no, perciò la palla già rallenta tanto, e comunque Lautaro Martinez sembrava più veloce con la palla, con la difesa del Torino, sia a livello mentale, sia a livello, non so, fisico, senza palla, veramente un bellissimo gol, ormai ragazzi, Lautaro Martinez sta facendo una stagione su dei livelli altissimi, mettiamo la luce nera azzurra ragazzi, che ho comprato, come si fa qui? Ecco, adesso non si apre, eh ragazzi, questo è l'effetto, quando uno vuole provare qualcosa, poi non funziona, comunque, quello che volevo dire ragazzi, tanta roba in fase offensiva, ripeto, fase difensiva abbiamo giocato benissimo, però, poi anche il gol di De Vrij ragazzi, non è un caso, non è un caso, non è più l'Inter di una volta dove segnava sempre solo un giocatore, ormai ragazzi segnano due attaccanti, abbiamo due attaccanti, non solo uno, no due ragazzi, abbiamo visto anche il gol di Lautaro Martinez, mi è piaciuto, proprio Lukaku come è venuto, tutto contento, è sultato anche per lui, si vede che non c'è più questa concorrenza, giocano insieme, finalmente c'è una squadra, per la prima volta ragazzi, dopo tantissimi anni, perfino la curva a nord, ho sentito, hanno fatto i corri per Lukaku, hanno fatto i corri per Lautaro Martinez, quando poi dopo è uscito, finalmente ragazzi, Conte ha fatto un po' di rotation, che ha fatto giocare anche Di Marco, Borca Valero ha fatto i suoi primi secondi, comunque, quello che volevo dire ragazzi, finalmente, un'Inter unita, sotto tutti i punti di vista, e finalmente un'Inter compatta, dove non segnano solo gli attaccanti, oppure un attaccante, no, segnano anche i centrocampisti, segnano anche i difensori centrali, ragazzi, bello, perché se tu hai tutte queste bestie lì dietro, Godin, Skrini, che già fanno paura, capita come con la situazione, che il Torino, talmente concentrato su Godin, si dimenticano completamente, De Vrij, che sul secondo palo era completamente libero, ragazzi, tutte queste cose che sono successe, non erano dei casi, non erano dei casi, è il merito nostro, secondo me abbiamo una squadra veramente con qualità, ripeto, un attacco, tanta qualità, centrocampo, normalmente, anche tanta qualità, difesa molto compatti, Andanovic, San Samir ha fatto una parata, dove ho detto, questo è arte, ragazzi, questo è arte, perché quando tu, con gli occhi, pensi che la palla è già entrata, invece lui, un riflesso assurdo, non so come, la butta ancora fuori, quello non è più calcio, quello è arte, ragazzi, perciò, sulla panchina abbiamo Antonio Conte, poi i nostri tifosi sono fortissimi, il stadio è sempre pieno, l'unica cosa, l'ho già detto migliaia di volte, ragazzi, la rosa non è abbastanza larga, e qui arriviamo al punto veramente triste di stasera, adesso ho letto la prima cosa, qui di Barella, si parla di una distorsione al ginocchio, io subito mi sono già messo un po' a leggere, ovviamente dipende dal livello di gravità, si può significare fuori due, tre settimane, però ragazzi, se ci vuole un intervento chirurgico, scusate, parola difficile in italiano, per un gruppo come me, possono anche essere mesi, mesi e mesi, e potrebbe già essere la fine della stagione, ragazzi, speriamo di no, aspettiamo altre notizie, comunque la situazione al centrocampo è grave, ragazzi, è davvero grave, io dico, non è una critica verso Conte, però io ho pensato, questo buon Cavalero, che oggi è entrato, che adesso, in tutte le partite, fino adesso non ha giocato neanche un secondo, neanche un secondo, io dico, ok, ma potevi già fare un po' di rotazione, no? Invece Barrella gioca sempre, Brozovic gioca sempre, anche sta maledetta sosta nazionale, ragazzi, l'Italia nel cuore, iscrivetevi al secondo canale di YouTube, vedete il mio grande amore per l'Italia, però anche in questa sosta nazionale, giochi contro l'Armenia, 9 a 1, Barrella gioca, Barrella gioca, mi pare che è stato sostituito, però ha cominciato dall'inizio, anche contro la Bosnia, ha giocato, cioè, Barrella gioca sempre, tanti dicevano, oh, questo Barrella non si stanca mai, gli altri spesso gollano, tipo Brozovic, l'abbiamo visto, ragazzi, Brozovic, alcune partite è stato talmente distrutto, che ha fatto dei errori individuali, assurdi, invece Barrella ha giocato, ha giocato, ha giocato, e ragazzi, vi dico una cosa, anch'io ho fatto sport, io ho fatto per esempio Thai Box, mi allenavo anche 5-6 volte alla settimana, sono un pazzo, io sono fatto così, quando faccio una cosa, non importa, ragazzi, sport, provo sempre a dare il 1000%, questo è il mio carattere, e anche io lì ho notato, più ti alleni, più o meno dai ricupero al tuo corpo, più ti fai male, più ti strappi, più succedono queste cose, ragazzi, perciò purtroppo, io c'ho paura, c'ho veramente paura, adesso l'inizio è Barrella, ma Brozovic, ragazzi, da settimane, Brozovic dovrebbe un po', recuperare, riposare un pochino, lo sapete ragazzi, Sensi infortunato, Gagliadini infortunato, non è rimasto quasi più nessuno lì a centrocampo, sono davvero preoccupato ragazzi, l'unica cosa che posso veramente sperare, è che a gennaio arrivano dei centrocampisti ragazzi, veramente, lo spero, abbiamo tutti un po' criticato Antonio Conte, per i suoi sfoghi, però ragazzi, lui è un mister con tante esperienze, lui ovviamente aveva già visto queste cose, da una parte io do assolutamente ragione, la rosa è troppo corta, soprattutto a centrocampo, vediamo la Juventus ragazzi, che possono mettere 4-5 squadre in questo campionato, che potrebbero tutti lottare per il campionato, noi invece abbiamo una, una squadra buona, se poi viene una caccarella qualcosa, qualcuno, andiamo veramente in difficoltà ragazzi, per questo sono veramente preoccupato, ripeto, sono preoccupato perché questo potrebbe essere solo l'inizio, se poi capita a Brozovic, ragazzi, non ci voglio neanche pensare, aspettiamo un pochino i prossimi giorni, cosa diranno, speriamo che non è niente di troppo grave ragazzi, siamo arrivati alla fine del video ragazzi, iscrivetevi al canale di YouTube, voglio rispondere a una piccola cosa ancora, che mi è arrivata, oggi ho fatto dei video, anche dove ho parlato del Napoli, del Milan, delle Juventus, Bergamo, cioè ho analizzato anche le altre due partite, e mi sono arrivati un paio di commenti, come hanno detto, ma tu sei interista, tu devi solo parlare dell'Inter, perché parli delle altre squadre, io vi chiedo una cosa, ma voi pensate che un Antonio Conte, oppure qualcuno del suo staff, pensate veramente che quelli guardano solo l'Inter, che quelli non analizzano anche le altre squadre, sapete cos'è una competizione? Ragazzi, una competizione, tu devi anche guardare cosa fa la concorrenza, sì lo so, in questo momento il Milan sta molto giù, però io do sempre un'occhiata alle squadre tipo Roma, Lazio, Atalanta, normalmente anche Milan, Napoli, per me è normale ragazzi, questo fa parte della competizione, come uno che fa la box, io che ho fatto la Thai Box per un periodo di anni, quando sapevo un avversario, ovviamente ho fatto questo sport anche a dei livelli moderati, però io subito ho fatto le ricerche su internet, volevo sapere chi è il mio avversario, forse me lo posso studiare, e perciò se lo fanno allenatori, giornalisti, staff, se lo fanno tutti, che analizzano gli avversari, perché io che sto su YouTube, che già mi guardo le partite, e poi ho iscritti di qualità, che tifano anche squadre diverse, perché non lo dovrei fare, no? A me piace anche il calcio, mi piace analizzare il calcio a 360 gradi, e non significa che io sono meno interista a qualcosa del genere, assolutamente no ragazzi, io sono un pazzo interista, e sono un pazzo innamorato nel calcio, perciò ragazzi, io le partite che guardo, le analizzerò qui sul canale, e poi è facile ragazzi, se vi piacciono i post partita, guardateli no? Se voi vedete un titolo di una partita, può anche essere una partita della Bundesliga, della Champions League, e voi dite no, a me non interessa, non li guardate ragazzi, però fa un po' pena ragazzi, perché poi come fate, si comincia il calcio al mercato, si parla di quel giocatore, di quel giocatore, come fate poi a sapere se quel giocatore è forte o no, se guardate, se non guardate le altre partite, oppure se dite, vietato parlare, analizzare altre partite, ragazzi, non capisco questo ragionamento, assolutamente no, vabbè, ho parlato troppo ragazzi, sempre Forza Inter, ultimo tentativo, ragazzi, cazzo, non funziona, funziona ragazzi, un pochino qua, guardate qui ragazzi, luce, nera azzurra, vabbè, questa non è proprio nera azzurra, questo è più stile figa colombiana, ragazzi, un abbraccio a tutti quanti, vi voglio tanto bene, viva il calcio, Forza Inter, e Forza Barella, Bareligno, non mollare.